Siete pronte? Siete pronte per vedere questa cosa meravigliosa? Io lo dico, era troppo voglia! Dov'è? Naccio, Naccio! Olè, olè! Mamma mia che movimento! Vai, facci vedere com'è, mamma mia che movimento, questo è un movimento! Il pennello! Poi nell'ombra Giorgia Lucini Poi nell'ombra Poi nell'ombra Poi nell'ombra Poi nell'ombra Passando per un'ombra La, 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 la Cercandote Sonia! Sonia! Chichi! Allora Abbiamo un esemplare Di pavone Vai vedere le piume qua Le piume, Sonia le piume Olè! Grande Ceciuuu! Olè! Dovessi vedere come la coletta è scatenata stasera anche lei col prosecco Quindi ti pensiamo perché dove c'è il prosecco? Guarda che scena Guarda che scena Guardate 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 Quanto è bella vale No, no Guarda Guardate 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 Guardate